buon pomeriggio buon pomeriggio nel nostro spazio canale associazione paese delle donne dedichiamo un po un po del nostro tempo molto ben speso a claudia berton che è l'autrice del confine inventato un viaggio tra india e pakistan che ci farà fare il giro di mezzo mondo sono soltanto nel tempo ma anche nello spazio nelle culture nelle società nelle religioni come voi potete pensare e questo è un libro molto corposo di 400 pagine rotte con un'ottima bibliografia che ha come caratteristica di attraversare la vita di due paesi interi che sono il pakistan e l'india che adesso ci dirà claudia com'è che si sono separati e cosa ne è conseguito e di intere dinastie di famiglie regnanti da una parte dall'altra del confine e all'interno della misteriosa affascinante bellissima india che è la nostra autrice claudia berton conosce benissimo essendo una grande viaggiatrice che ha dedicato molti e molti anni a andare nel mondo specialmente in quella parte di mondo per cui cominciamo subito a farci raccontare com'è che lei si è finita in quella parte di mondo cioè com'è che hai scelto l'india allora io per 22 anni ho insegnato lingua e letteratura inglese al liceo ed ero una grande ammiratrice diciamo dell'impero britannico per cui la prima volta che sono andata in india ormai molti anni fa sono andata non tanto per l'induismo il buddismo o quant'altro sono andata per cercare un po le tracce dell'impero britannico successivamente però un altro viaggio mi ha fatto cambiare prospettiva ed è stato un viaggio sulle tracce di una viaggiatrice archetipica inglese dei primi dell'ottocento che è un'aristocratica che pranzava a tavola con il re e che poi ha lasciato l'inghilterra per sempre e viaggiando nel mediterraneo è finita in un monastero giocato sul monte libano e non è mai più tornata in inghilterra quindi seguendo le sue tracce nei luoghi nell'oriente del mediterraneo e poi di conseguenza studiando arabo e studiando la storia del medio oriente è proprio letteralmente cambiata la mia prospettiva del mondo e ho cominciato a scoprire tutti i danni che l'impero britannico insieme anche alla francia al dominio francese avevano causato in quelle regioni disegnando confini e quindi le successive volte in cui sono tornata in india la mia mio punto di vista era diverso dopo anche aver letto numerosissimi libri anche di soprattutto di scrittori indiani e poi mi mancava diciamo il pakistan e quindi avrei dovuto andare tre anni fa in in pakistan ma è arrivato il covid quindi ho dovuto nel frattempo ho scritto ho finito di scrivere il libro e poi quest'anno a fine dicembre sono riuscita ad andare anche in pakistan e più o meno a vedere le cose che avevo già descritto nel mio libro ovviamente alcune situazioni comunque erano cambiate infatti Imran Khan non è più il primo ministro del paese ma è chiuso in prigione per motivi che potrei spiegare ma insomma andiamo intanto avanti andiamo avanti intanto questo bel piccolio che si sente sullo sfondo di che cosa è sono le mie 21 cocorite tutte nate sotto il mio tetto da una coppia originaria e adesso sono qui nel mio studio per svernare in primavera con grandi fatiche le trasferirò in giardino però è impossibile tacitarle ecco ma è una bellissima colonna sonora veramente anzi da un senso di estroso a questa intervista che riguarda appunto mondi favolistici il famoso oriente andiamo sulle cose più concrete questo viaggio appunto questo libro questo libro il confine inventato parla specificatamente di quello che ha segnato la divisione tra l'india e pakistan e naturalmente ci sono poi rimandi ad infiniti altri confini inventati che l'occidente ha segnato in tutti i continenti questi però sono particolari come per esempio c'è anche la palestina tibetana col tibet palestinese come si voglia dire ci sono anche altri confini questo libro è un libro di storia di storia politica anche anche diciamo tanti anche di diplomazia e anche anche di avventura perché leggendo questo libro sia proprio il senso della dinamica della storia politica dei paesi ci racconti questo confine inventato del pakistan india che tra l'altro è molto legato anche alla vita gandiana allora praticamente io sempre nei miei libri precedenti mi sono sempre occupata di questi spostamenti forzati di popolazioni che è un argomento davvero molto importante per me perché la considero davvero mi metto nei panni di queste persone che vediamo nelle foto trascinare i loro fagotti da un luogo all'altro non per scelta e quindi mi ero occupata dello scambio di popolazioni greco turco del 1923 anche della della palestina del dramma palestinese dal 48 in poi lo scambio di popolazioni tra india e pakistan e che allora non era pakistan allora c'era il grande subcontinente indiano governato in grande parte dall'impero britannico e poi c'erano ovviamente molti sovrani molti regni semi indipendenti ma tutti con un residente britannico a corte quindi praticamente la situazione anche a causa del divide timpera britannico da quando appunto sono arrivati in india all'inizio del settecento si sono sempre più sono arrivati come mercanti però accompagnati da dai soldati e poi ovviamente il poi ci sono stati moltissimi moltissimi eventi comunque le due comunità la comunità musulmana e la comunità hindu sono state un po' alla volta divise appunto dagli inglesi e quindi si è creato un solco sempre più profondo adesso qui non è il caso di stare a vedere tutti i momenti importanti di questa separazione che non esisteva all'origine e finché insomma anche i musulmani hanno chiesto una loro autonomia ma nessuno pensava di dividere l'india e quando poi si è arrivati anche qui attraverso molte vicende anche sanguinose a proporre una separazione all'epoca era vice re Dick Mountbatten che era parente del sovrano britannico ed era sapeva che sarebbe stato l'ultimo vice re quindi doveva creare appunto dividere creare un nuovo paese un nuovo paese per i musulmani e è stato affidato a un avvocato inglese un certo Cyril Radcliffe il compito di creare questo confine letteralmente al tavolino questo signore non era mai stato nel subcontinente indiano e a questo punto ovviamente arriva in India e gli vengono dati 40 giorni di tempo per tracciare questo confine mettendo da una parte cioè verso ovest il maggior numero di musulmani possibile e lasciando verso est la maggior parte di hindu e di Sikh cioè il Sikhismo è una religione un po' di mezzo fra l'islam e l'induismo e quindi ha letteralmente separato villaggi per esempio dal loro sbocco sul fiume oppure case dal loro entroterra agricolo quindi per forza sono stati dei drammi insomma che continuano ancora e tra l'altro questa divisione è stata comunicata all'India e al Pakistan addirittura due a tre giorni dopo che ufficialmente era nato lo stato indiano indipendente con a capo Nehru e il nuovo stato pakistano con a capo come governatore Mohammed Ali Jin che sarebbe morto l'anno dopo nel 48 e tutti e due i capi di questi due nuovi paesi tra il 14 agosto del 47 hanno fatto dei bellissimi discorsi di come dire programmatici di che tipo di nazione avrebbero dovuto essere da un lato l'India dall'altro il Pakistan in realtà o in me dopo già poco tempo dopo i bei proponimenti di questi due capi soprattutto i proponimenti di Jin da parte pakistana si sarebbero sbriciolati e sarebbe nato un paese diviso tra un fondamentalismo religioso e un potentissimo esercito che tuttora praticamente tiene in scacco il paese l'India è nota per essere avere centinaia di lingue centinaia di etnie centinaia di omogeneizzare l'India è praticamente un'impresa impossibile quando fosse proprio orrendo farlo però come hanno successo questo cambio di questa separazione di popolazione ha creato un bagno di sangue ha creato un terribile bagno di sangue è stato uno scambio di popolazioni che ha coinvolto si dice circa 12 milioni di persone e le vittime di questo scambio le vittime quelli che hanno perso la vita sono circa un milione perché questi treni che andavano da Amritsar che era entro il confine indiano a Lahore che era sul confine sul nuovo confine diciamo inventato molti treni sono arrivati letteralmente grondanti sangue e tutti quelli che viaggiavano in questi treni sono arrivati morti alle rispettive destinazioni quindi è stata una tragedia sono stati scritti libri su questo con le memorie dei sopravvissuti o anche di quelli che hanno perduto tutto in questo scambio a proposito di questo c'è lungo questo che io chiamo confine inventato un luogo che si chiama Wagah dalla parte pakistana e Atari dalla parte indiana e lì proprio sul confine ogni sera avviene una sorta di incontro barra scontro una sorta di danza rituale allora io ho assistito a questa ogni sera ogni sera ancora adesso certo dal praticamente dagli anni 50 è stata sospesa solamente durante una delle due guerre tra India e Pakistan ce ne sono state quattro finora e tutti e due sono paesi con con l'arma nucleare per cui insomma sarebbe bene che non avvenissero più ulteriori scontri ma è stato solamente per poche sere non si è fatta questa cerimonia quindi è una cerimonia davvero incredibile allora diciamo che assomiglia quasi a una partita di calcio per il tifo che suscita allora dalla parte indiana ci sono c'è tutta una serie di gradinate di forma ellittica e sono sempre strapiene di persone anche perché oltre agli indiani ci sono anche sempre moltissimi turisti in alto c'è il ritratto di Gandhi e poi bandiere da tutte le parti dall'altra parte dove sono stata appunto all'inizio di gennaio di quest'anno dalla parte pakistana e ho avuto meno paura devo dire perché da parte indiana con questa immensa ressa di persone c'è un ingresso molto piccolo una sorta di porticina e all'uscita in cui tutti spingevano ho avuto veramente la sensazione di pericolo di un luogo in cui qualsiasi cosa succeda la gente non può scappare non può non si può scappare da parte pakistana invece mi sono sentita più tranquilla perché c'era molto meno gente anche lì c'è questa ellisse queste gradinate ma c'erano solo pakistani per cui tutti con le bandierine e in alto il ritratto il triste ritratto di mohammed alijin il padre della patria appunto morto nel 48 di tubercolosi quindi è stato governatore solo un anno ma è ancora considerato diciamo la figura il fondatore del pakistan quindi qui ci sono questi soldati da tutte e due le parti tra l'altro che portano in testa una sorta di cresta quasi da galletto mi viene da dire nera i pakistani rossa gli indiani perché la divisa è quella che era ancora ai tempi in cui c'era c'erano i britannici che avevano formato ambedue gli eserciti per cui insomma ci sono ancora queste tracce diciamo questo ricordo degli inglesi e questi dalle due parti si avvicinano facendo una una specie di danza guerresca con sgambate battito di tacchi eccetera e il pubblico grida poi ci sono trombe insomma è una cosa quasi uno spettacolo poi alla fine suonano le trombe e ognuno dalla sua parte ammaina la propria bandiera che viene piegata poi c'è tra le due parti una sorta di stretta di mano e si chiude il confine che verrà riaperto la mattina dopo ma senza cerimonie da notare che questo è l'unico confine via terra tra i due paesi e praticamente possono transitarvi esclusivamente gli stranieri né gli indiani né i pakistani quindi è una cosa è un racconto di cui ti ringrazio perché è veramente impressionante e poi veramente inconsueto cioè ma si può vedere ci sono non so su youtube chiusura del confine waga scritto col v doppio waga mi pare con l'h chiusura del confine indo-pakistano e si possono vedere si può vedere questa danza guerresca che era stata inventata in funzione di come pacificazione anche se a vederla ricorda di più una danza di guerra che una che che un momento di pace ma siamo sempre siamo sempre dunque siamo sempre nell'immaginario che è una pace dopo una guerra e prima di un'altra guerra quindi quindi sì è davvero una cosa bizzarra ma quest'anno però ho chiesto da parte pakistana e mi dicevano che comunque questo è diventato una sorta di spettacolo per cui fanno proprio le prove dalle due parti per cui in qualche modo si incontrano anche per cui insomma in fondo è una sorta di tramite se non altro per funzione turistica ecco un messaggio un pochino mercificato ultimamente però comunque rimane un bel messaggio ecco rimane un bel messaggio ecco come voi avete ben compreso questo libro è tutto attraversato da situazioni e spiegazioni come queste per questo parlavo di avventura perché non è la lettura di un romanzo è proprio un viaggio interiore un viaggio politico un viaggio di costume ecco e non si saprebbe nemmeno come definirlo è attraversato da questa e da altre mille quelle che noi si può definire curiosità ma che curiosità non sono perché sono la vita vera di milioni e milioni anzi centinaia di milioni di persone l'India ha un miliardo e duecento milioni di abitanti appunto allora io vado per e quaranta milioni quindi insomma sono due luoghi incredibilmente abitati ci tengo a dire una cosa che pochi conoscono del Pakistan è sostanzialmente un paese semifallito una cosa che mi ha molto turbato è che l'istruzione non è obbligatoria quindi nei piccoli villaggi abbandonati lungo il fiume Indo cioè ci sono tutti questi bambini scalzi bellissimi che non vanno a scuola perché ovviamente se la scuola non è obbligatoria non è spinta diciamo dall'alto e non per nulla il 60% di abitanti del Pakistan sono analfabeti quindi questo è una cosa assolutamente tragica per il futuro della nazione insomma e questo che riguarda i bambini riguarderà maggior ragione le bambine perché credo che siano incluse in questo certo però francamente le bambine sono più stanno in casa ecco quelli che ho visto non so nei mercati eccetera sono uomini e appunto bambini bambini maschi quindi come sempre no no le donne sono in giro come però sono donne della cioè della dire borghesia forse un po' troppo comunque non persone del popolo infatti sono molto eleganti e sono velate e hanno il cellulare quindi queste che visitano i luoghi turistici sono le donne della categoria diciamo più elevata ecco le povere le donne povere stanno non so a lavare i panni al fiume eccetera e non hanno il cellulare e non hanno non sono col viso coperto quelle col viso coperto come accadeva nell'esame anche nel passato sono quelle che vengono considerate una sorta di tesoro domestico no quindi devono essere coperte perché sono l'onore dell'uomo sta è rappresentato da loro insomma il discorso sarebbe lungo comunque carissimo lungo e universale talmente semplice che appunto si ripete con le stesse drammatiche situazioni ovunque ora nella seconda parte del libro di questo libro si parla ovviamente dell'India contemporanea o comunque più recente e quindi emerge inesorabile è la figura di Indira Gandhi alla quale l'autrice dedica moltissimo spazio sia rispetto alla sua opera personale e sia quella della sua dinastia in questo caso di Sonia Gandhi con Indira la figura che si traccia di Indira è una figura assolutamente alternativa ce la racconti? allora Indira non ha niente a che vedere con Gandhi con il Mahatma era Gandhi ha un cognome abbastanza comune in India ed è il cognome del marito da cui poi insomma si è separata e che è il cognome dei suoi figli uno dei quali aveva sposato ha sposato un'italiana Rajiv che è stato poi ucciso in un attentato come anche Indira è stata uccisa in un attentato in un attentato fatto dalla sua guardia del corpo Sikh per punirla diciamo di aver fatto entrare i carri armati nel tempio d'oro della religione Sikh ad Amritsar perché appunto sia Indira che poi il figlio Rajiv hanno fatto una politica comunalista si dice in inglese cioè di in qualche modo dividere le comunità e mettere un po' l'una contro l'altra quindi la comunità dei Sikh negli anni 80 cioè c'erano delle frange estremiste che volevano la nascita di un Kalistan cioè di una parte di India abitata solo da Sikh e ovviamente questo non poteva essere forse avrebbe potuto avvenire nel 47 quando c'è stata la partizione del subcontinente ma negli anni 80 oramai non poteva più essere permessa quindi Indira Gandhi ha represso questa diciamo più che aspirazione questo movimento politico estremista entrando con i carri armati nel Tempio d'Oro i morti sono stati circa 300 perché in India ogni cosa che succede i morti sono sempre a centinaia e quindi è stata una violazione imperdonabile quindi poco dopo le sue guardie del corpo Sikh le hanno sparato mentre usciva di casa nel proprio giardino in cose un passo indietro facciamo un passo indietro la fortuna politica la costruzione della personalità politica di Indira da dove viene invece il tuo libro lo spiega molto bene e in modo direi affascinante Indira era ovviamente la figlia di Javaharlal Nehru famiglia antica famiglia di Bramini di origine Kashmira originari del Kashmir e questa questa figlia diciamo era come si potrebbe dire affascinata del padre una sorta di complesso edipico nei riguardi del padre che l'ha allevata proprio in vista di che gli potesse succedere insomma per cui soltanto che Indira si è avvicinata forse un po' troppo rispetto ai tempi alla Russia e a proposito di questo io ho avuto la fortuna di conoscere un personaggio incredibile il barone generale ambasciatore Amedeo Ghije un soldato successivamente un eroe di guerra e successivamente ambasciatore della Repubblica Italiana in in medio in vari paesi medio orientali dallo Yemen alla Giordania al Marocco e la sua ultima postazione come ambasciatore è stata in India e lui mi raccontava che ha chiesto a Indira Gandhi ma Mrs. Gandhi ma perché questo comunismo e lei ha risposto eh caro ambasciatore quando si governa un paese di mezzo miglia allora era mezzo miliardo di persone bisogna cominciare da un po' di comunismo e quindi insomma Indira si era avvicinata ma d'altra parte il Pakistan era il protetto invece degli Stati Uniti per cui in qualche modo la guerra fredda si giocava anche nel subcontinente indiano inesorabilmente insomma non per nulla secondo eh l'aiutante di campo di del vicere Mountbatten eh Churchill aveva caldeggiato la nascita del Pakistan proprio temendo che una volta che gli inglesi se ne fossero andati Nehru che era eh che guardava all'Unione Sovietica con simpatia con interesse ed era sicuramente un socialista ehm si sarebbe avvicinato ancora di più all'Unione Sovietica e quindi eh dividere creare uno Stato musulmano con uno sbocco al mare nel grande porto di Caracci avrebbe permesso all'Inghilterra eh di mantenere una posizione di favore sul Golfo Arabico cioè la zona poi che 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 si dirige cioè il mare che bagna anche gli emirati del Golfo e quindi petrolio no? e anche ovviamente l'Iran che all'epoca dove all'epoca c'era l'Ocean e la British Petroleum no? la BP eccetera ecco l'Iran adesso lo lasciamo da parte un attimo perché eh in questo libro c'è c'è anche questo non stiamo dedicando uno spazio inconsueto a questo libro perché eh non è soltanto una lezione di geopolitica ma è proprio un mettere le dita eh in una materia molto molto sensibile che è quella dell'oggi eh perché ehm sono dinamiche che non vengono sempre spiegate e che producono nell'oggi conflitti tensioni schieramenti che certe volte non si capiscono perché e invece radicano eh purtroppo sempre quasi sempre in questioni religiose o di schieramento cosiddetto religioso diciamo così il e poi naturalmente gli interessi economici politici molto precisi dell'Occidente rispetto al resto del mondo torniamo un attimo alla eh a Indira eh che da questo diciamo inizio ehm vicino alla popolazione veniva considerata quasi venerata quasi no come una donna molto vicina al popolo vicina ai poveri è diventata poi praticamente ha incarnato suo contrario e eh a Sonia eh che le è succeduta non come carica politica però come potere perché dal libro almeno si evince che Sonia ha un diciamo un'ottima presa sul potere adesso c'è c'è il il figlio che è stato in qualche modo spinto ad entrare nell'arena politica ma non è particolarmente insomma non ha nulla di quella che era il carisma e l'intelligenza del del nonno Nehru che era una persona incredibilmente affascinante e comunque la la dinastia Nehru Gandhi è sempre stata rappresentata nel congresso nel grande congresso indiano che ha sempre diciamo gestito il paese finché fino a che è stato scalzato dal BJP questo partito di si potrebbe dire molto radicale di destra se destra ha ancora un significato che è rappresentato da Narendra Modi l'attuale primo ministro indiano quindi un paese che era stato diciamo era nato sotto Nehru come un paese di laico fondamentalmente anche se Nehru ovviamente era hindu però quegli hindu educati in Inghilterra parlava meglio l'inglese che l'indi eccetera e adesso l'India sta subendo una zafferanizzazione a dire zafferano è il colore di di questo di questo partito di questo primo ministro che si fa riferimento a questa indutva che è un movimento nato ancora all'inizio del secolo scorso e sarebbe il suprematismo hindu quindi gli indiani hindu sono i cittadini di prima categoria gli altri vengono dopo infatti c'è una grande discriminazione rampante nei riguardi dei musulmani che peraltro sono come dicevo prima più di 200 milioni in India cioè quasi tanti quanti sono i musulmani in Pakistan e lì c'è tutta questa incredibile bagarre perché Modi ha dato è andato a celebrare la costruzione di un tempio nel luogo dove a loro dire era nato Rama ma Rama è un personaggio mitico non è una figura storica Rama è il protagonista del Ramayana però è il protagonista di cui un pezzo è caduto da quelle parti sì cioè lì c'era dicono ma non è sicuro questo tempio di Rama Ayodhya che è nel nord nell'Uttar Pradesh praticamente nel quando sono arrivati i musulmani cioè la grande dinastia che comincia con Babur dei Mogul che discendevano dal cuore dell'Asia e Babur il primo sovrano Mogul ha costruito ha fatto costruire o insomma ha lasciato che venisse costruita una moschea che si chiamava la moschea Babri che vorrebbe dire di Babur questa moschea nel 92 è stata distrutta da un insieme di teppisti di scatenati che l'han demolita pezzo per pezzo per motivi ma vabbè insomma diventerebbe troppo lungo si intrecciano sempre tanto ecco non sono mai un solo motivo dopo di che la corte suprema ha decretato che non si può è stato uno sbaglio ha condannato la distruzione di questa moschea però dando un colpo al cerchio un colpo alla botte ha donato il terreno a questi suprematisti hindù sono passati gli anni e adesso addirittura il primo ministro è andato a perché stanno effettivamente ricostruendo non ricostruendo costruendo questo tempio che non si sa nemmeno se ci sia mai stato in questo luogo secondo loro Natale luogo Natale di Rama e Modi con tutti i suoi seguaci vestiti di zafferano di color zafferano sono andati è andato a benedire la rinascita di questo tempio da notare che nell'ambito stesso dell'induismo molti sacerdoti hindù hanno deprecato che si sia benedetto un tempio che non è ancora stato costruito che è in via di costruzione è contrario alle leggi hindù quindi insomma è una polemica che serve a dividere e a radicalizzare questo suprematismo hindù che è molto molto pesante molto molto pericoloso come tutte le cose estreme è sempre molto pericoloso e con ricadute non prevedibili perché il mondo non è proprio un cortile di margherite ecco bello che mi piace sempre ricordare non so di chi sia ma la ricordo sempre questa citazione che un tempo si diceva che la religione era l'oppio dei popoli e invece in questi ultimi decenni la religione sembra essere diventata l'anfetamina dei popoli cioè visto che andiamo per citazioni c'è anche però quella frase bellissima della Liliana Segre che dice la farfalla gialla vola sui fili spinati eh sì ed è una frase di una speranza dell'umanità incredibile e anche un messaggio incredibile per credenti e non credenti di qualsiasi fede ecco è proprio un modo una filosofia profonda di vita questa farfalla che vola così in alto da lasciarsi le brutture e le cose buzze della vita sotto concludiamo questa questa non sapere chiacchierata su questo libro il confine inventato di Claudia Bertone che come è chiarissimo si potrebbe prolungarsi per altre quattro ore e la e non avremmo detto quasi nulla di tutto quello che ha detto dentro con un po' di lievità ecco nel libro nelle pagine ci sono anche descrizioni di splendidi palazzi ci sono descrizioni di tappeti in tessuti di perle ci sono ci sono descrizioni ambientali di paesaggi meravigliosi come quelle del subcontinente tiene e a di fiumi grandissimi ci sono c'è una natura anche preponderante quasi come le coccorite che cantano anche loro impressionate da questa questa disposizione ecco e la e sul Kashmir di Malaya in Iran ci andiamo un'altra volta perché è impossibile e però appunto una parola conclusiva di cosa hai riportato da questo viaggio che tu già non avessi conosciuto o sperimentato da quale dei viaggi cioè dall'ultimo dall'ultimo facciamo l'ultimo così l'ultimo l'ultimo del Pakistan purtroppo molta tristezza cioè è stato un viaggio molto faticoso perché non è assolutamente un luogo turistico e ho visto molto molto abbandono molto anche quelli che in India sono meravigliosi palazzi meravigliose moschee in Pakistan purtroppo sono lasciati cadere lasciati andare quindi c'è un un grande abbandono come se appunto non ci fossero non ci fosse denaro per per occuparsi di mantenere in vita anche le loro le loro architetture quello che potrebbero essere le loro cose che potrebbero attirare dei flussi turistici ma invece insomma mi sembra poi anche considerando la sua storia questo Imran Khan in prigione con accuse sostanzialmente inventate per non farlo partecipare alle elezioni e questo popolo che comunque ha votato per lui in tutte le circoscrizioni ma che l'indomani stranamente i pakistani si sono trovati al potere di nuovo uno dei feudatari più ricchi del paese che era già stato condannato per corruzione insomma sono delle storie terribili storie terribili purtroppo non nuove ecco va bene allora anche con questa storia terribile cerchiamo comunque di di concludere con una speranza perché queste appunto da tutte le tragedie poi alla fine qualche cosa si salva ecco in questo caso non si salvano neanche i palazzi e le moschee però insomma in qualche modo qualcosa si salverà però sono le persone secondo me perché io tutti mi dicevano cosa va in pakistan è pericoloso invece ho trovato tanti sorrisi cioè tanti sorrisi non solo da parte dei bambini ma anche dai poliziotti stessi che ci seguivano per proteggerci ma secondo me più che altro per passare il tempo con il loro kalashnikov che mi faceva molta paura però bastava aprire il viso ad un sorriso e loro ricambiavano quindi insomma l'umanità c'è dappertutto e tutti abbiamo gli stessi sentimenti gli stessi dolori le stesse speranze insomma anche le stesse paure e preoccupazioni ovviamente allora io vi ricordo che se voi volete fare un'immersione totale dentro la storia del novecento praticamente nel subcontinente indiano anche adesso diventato India e Pakistan e poi paesi limitrofi Tibet Kashmir e via dicendo voi dovete leggere il confine inventato di Claudia Berton dove questo viaggio che appunto è un viaggio della mente del cuore e dell'esperienza si fa si dà agli altri e agli altre delle informazioni preziosissime di costruzione dello ieri e di costruzione dell'oggi che vuol dire anche costruzione del domani perché qui si capisce quali e tanti ci siano i focolai che purtroppo portano trovano in questo mondo grazie ancora Claudia Berton e grazie a tutte e tutti quelli che ci hanno ascoltato fino qui arrivederci grazie a te grazie a te